Recuperato in acqua dalla capitaneria, il corpo senza vita di un 75enne pesarese. Covid tornano a salire i nuovi positivi in regione. Acquaroli chiede massima attenzione. Continua sul territorio il lavoro delle USCA per fronteggiare il Covid. Richiesti in aumento per i bonus spesa. Inizia domani la quarta distribuzione. Inizia domani la quarta distribuzione. Giornale Rossini News. Subito in apertura parliamo di cronaca perché questa mattina la capitaneria di Porto è intervenuta in zona Moloco per recuperare il cadavere di un uomo che si trovava in acqua. La segnalazione è stata inviata intorno alle ore 9 e insieme alla capitaneria è arrivato anche il magistrato di turno e il medico legale che ha constatato il decesso dell'uomo, un 75enne residente a Pesaro. In seguito la salma è stata riconosciuta dalla figlia. Sempre in zona Porto è stata ritrovata anche l'automobile appartenente al 75enne. Saranno le indagini insieme probabilmente all'autopsia della salma a stabilire la vera natura del decesso dell'uomo e se questa possa essere riconducibile a suicidio oppure ad un malore. In primo piano anche gli aggiornamenti Covid perché dopo diversi giorni tornano a salire i numeri quotidiani dei nuovi positivi nelle marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.140 tamponi, 3.452 nel percorso nuove diagnosi, di cui 888 nello screening con percorso antigenico e 2.688 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari al 23,4%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 807, con 125 casi in provincia di Pesaro e Urbino. I decessi notificati nella serata di ieri sempre dal Servizio Sanità contano 10 nuove vittime, nessuna delle quali era residente nella provincia pesarese. E sulla nuova crescita dei numeri relativa ai casi quotidiani di contagio nelle marche è intervenuto anche il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che attraverso la sua pagina Facebook ha sottolineato come dopo alcuni giorni in cui si osservava il rallentamento della curva pandemica, il dato odierno riporti invece ai numeri registrati due settimane fa, nel mezzo del picco della pandemia. L'augurio del Governatore è che quello di oggi sia soltanto un dato sporadico, visto che il ripetersi di numeri del genere comprometterebbe il passaggio della nostra Regione nella fascia di restrizioni inferiore. E in primo piano questa sera parliamo anche del prezioso lavoro svolto sul territorio sin dall'inizio della pandemia dalle unità speciali di continuità assistenziale, ovvero le cosiddette USCA. Tanti gli interventi effettuati per il controllo e la cura dei pazienti affetti da Covid-19, come ci ha spiegato il coordinatore delle USCA di Pesaro, il dottor Gregorio Bucci. Tra le diverse realtà sanitarie scese in campo fin dal primo giorno della pandemia per fronteggiare il Covid-19, ci sono le unità speciali di continuità assistenziale. Anche sul nostro territorio il lavoro e gli interventi portati avanti dai medici delle USCA sono risultati essenziali per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti dal virus e non solo. Il punto più importante è assistere i pazienti positivi che sono a casa e che hanno una sintomatologia tale da non richiedere il ricovero. Quindi il punto sostanziale è tutta la parte di diagnosi, quindi prima il tampone a casa per i pazienti che sono suggestivi, una volta che sono positivi, l'inquadramento dei sintomi, l'esecuzione di ecografie polmonarie, esami ematici, se necessario si organizzano anche le TAC dal domicilio fino all'ospedale e ritorno per inquadrare la situazione polmonare e una volta stabilito il quadro generale si sceglie la prospettiva più adeguata per il paziente, se è il trattamento a domicilio o in caso all'ospedalizzazione. Ovviamente noi ci richiamo ad assistere a domicilio, qualsiasi persona non abbia necessità di un ricovero e che quindi può essere di conseguenza assistita a domicilio. Abbiamo avuto pazienti di 95 anni, così come abbiamo assistito a casa pazienti che hanno avuto questa necessità nonostante l'età na grafica minore. Ci sono stati dei 40-45 anni che a casa sono stati molto male e hanno avuto bisogno comunque di tutto il supporto medico necessario. Quante sono state le richieste, diciamo soprattutto in questo periodo di terza ondata? Allora, in termini di terza ondata ancora non abbiamo i numeri complessivi, ma abbiamo raggiunto un picco massimo di 80 richieste nell'arco di una giornata. Quindi comunque numeri importanti, ovviamente non sono tutte richieste che vengono eseguite a domicilio, ci sono anche richieste per pazienti con pochissimi sintomi che a quel punto vengono reindirizzate ai drive-in. In termini di numeri complessivi posso dirvi quelli della seconda ondata, che siamo arrivati a dicembre 2020 ad assistere 800 singoli pazienti a domicilio, molti dei quali con numerosi ingressi. Oggi ci sono arrivate nel complesso una quarantina di richieste, più l'attività che noi abbiamo comunque quasi quotidiana a livello di centri diurni, case di riposo e cose del genere, a cui forniamo il supporto in termini di attività Covid. Quindi comunque per quanto i numeri siano ancora importanti, c'è stata una discesa sicuramente rispetto al picco di un paio di settimane fa. E quante persone e quante unità lavorano qui per appunto le USCA? Ogni giorno abbiamo quattro medici in turno, quattro infermieri e una persona di personale amministrativo che ci supporta nell'attività a livello di computer, burocrazia e tutto quanto. C'è un momento in particolare della vostra attività che ricordate dall'inizio dell'emergenza Covid oggi? Ci sono stati diversi momenti molto importanti. Sicuramente il momento del focolaio a casa Roverella di Santa Colomba, che c'è stato a dicembre, è stato un momento molto impegnativo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo. Un sacco di pazienti positivi, voleva dire stare lì dentro a visitarli tutti, anche per 6-7 ore di filata, non stop, con situazioni molto critiche. Quello è stato sicuramente un momento molto provante dal punto di vista fisico. Contatto con le persone assistite, come è andato in questi mesi? Quando arrivate nelle abitazioni delle persone, come è andata? Inizialmente c'era stupore, vi parlo di prima ondata, quando molti non si aspettavano che ci sarebbe stato nessun medico a casa. Poi c'è stata la gratitudine, c'è stato tutto lo spettro emotivo. Ovviamente si sono create anche delle situazioni di esasperazione, perché ovviamente per un motivo o per l'altro qualcuno può aver atteso troppo una visita. Però diciamo che di tutto lo spettro emotivo che ovviamente c'è stato, la gratitudine è stata la parte più importante. E chiudiamo la pagina relativa alla sanità, parlando anche dell'accordo siglato nelle scorse giornate per il raggiungimento del premio Covid anche per i lavoratori dell'Area Vasta 1. Ad illustrarci i dettagli dell'accordo nella prossima intervista è il segretario provinciale della Cisle FP, Alessandro Contadini. Lunedì 29 marzo abbiamo firmato presso la sede legale dell'Area Vasta 1 l'accordo per il riconoscimento del cosiddetto premio Covid, riferito alla prima ondata appunto del contagio del marzo-maggio 2020 a tutti i dipendenti del comparto appunto dell'Area Vasta 1. Abbiamo firmato questo accordo avendo ben presente che purtroppo i lavoratori dell'Area Vasta 1 erano gli ultimi a ricevere tale incentivo economico, perché in tutta la regione Marche i colleghi delle altre aziende e delle altre aree vaste l'avevano già percepito. L'abbiamo fatto con grande senso di responsabilità per non penalizzare ulteriormente i dipendenti appunto dell'Area Vasta 1, nonostante le risorse aggiuntive regionali erano insufficienti a corrispondere un premio dignitoso a tutti quei dipendenti che hanno dato i propri contributi, si sono sacrificati per combattere, stanno combattendo ancora il Covid. Perché questo? Perché le risorse stanziate a livello regionale, circa 330 mila euro, erano insufficienti. Abbiamo unitariamente organizzazioni sindacali fatto diverse iniziative, tra cui anche due state digitazioni, siamo stati ricevuti due volte dal prefetto di Pesor Urbino in tal senso, nonostante questo abbiamo incontrato una rigidità elevata nel riconoscere ulteriori risorse. Il senso di responsabilità che abbiamo mostrato è quello di riconoscere attraverso delle somme, dei residui, dei risparmi in Area Vasta 1 di corrispondere un premio ai dipendenti andando ad aggiungere questi residui ai 330 mila euro per corrispondere appunto ai circa 1800 dipendenti dell'Area Vasta 1 un premio, ripeto, dignitoso che avrà corrisposto, noi ci auguriamo, con la busta paga di aprile e sarà di circa 750 euro l'orde pro capite per ogni dipendente collocato in prima fascia di rischio in pratica per tutti quei dipendenti che hanno lavorato direttamente a contatto col Covid nei reparti appunto creati per il Covid di 500 euro per tutti gli altri dipendenti collocati in fascia 2 ovvero quelli che hanno collaborato e sono stati a supporto appunto dei reparti delle aree Covid e in terza fascia di rischio circa 300 euro l'orde pro capite per il resto dei dipendenti come ad esempio i dipendenti che hanno lavorato nei front office, nei servizi di laboratorio analisi, radiologia, solo per citarne alcuni che comunque hanno garantito la continuazione dei servizi appunto in presenza Partirà domani giovedì 1 aprile la quarta distribuzione dei bonus pesa messi in campo dall'amministrazione comunale per le famiglie in stato di necessità a causa dei problemi e delle difficoltà generate dal Covid I dati segnalano un aumento delle richieste e di conseguenza delle risorse stanziate per attivare la forma di sostegno Vediamo Entra nel vivo la quarta chiamata dei buoni spesa stanziati dal comune di Pesaro L'operazione dal valore complessivo di 490.000 euro che interesserà più di 220 famiglie pesaresi che attualmente si trovano in difficoltà a causa della crisi generata dal Covid ha raccolto le ultime domande nella giornata di lunedì e vedrà invece domani, giovedì 1 aprile iniziare la distribuzione dei primi voucher Lo stanziamento iniziale previsto era di 400.000 euro mentre sono pervenute domande per un totale di 490.000 euro Di fronte a questo aumento delle richieste l'amministrazione comunale ha deciso di dare risposta a tutte le domande che sono pervenute e pertanto ha individuato già le risorse e gli ulteriori 90.000 euro da destinare a questo intervento che va, lo ricordo, a sostegno delle tante situazioni nuove e criticità emerse con l'emergenza sanitaria sono famiglie, sono anche giovani coppie, sono anziani, singoli cittadini che si trovano oggi in grandi difficoltà Le risorse stanziate andranno dunque a beneficio delle tante famiglie in difficoltà ma saranno anche ulteriore liquidità messa in circolo nell'economia locale per tante attività pesaresi che vendono beni alimentari, beni di prima necessità I buoni spesa, come dicevo, saranno consegnati a partire da giovedì, prima aprile grazie all'impegno di tanti volontari tanti volontari nei quartieri coordinati dall'assessore Mila della Dora e da un grande lavoro che mette ancora in luce le capacità del volontariato in una città che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno anche in un momento di grande difficoltà come questo La scorsa settimana si è concluso anche la possibilità di poter fare domanda per il fondo anticrisi Le domande pervenute anche in questo caso hanno superato quelle che erano le previsioni quelle che erano le stime, le risorse che avevamo destinato per uno strumento importante come quello del fondo anticrisi rivolto appunto al contrasto, al disagio abitativo e quindi a sostegno degli affitti, delle utenze e delle bollette Per la prima volta l'amministrazione era riuscita a stanziare 400 mila Euro già dall'inizio dell'anno per questa misura, una misura condivisa sia con le parti sociali e che è stata coordinata e seguita egregiamente dall'assessore alla solidarietà Sara Mengucci Le risorse stanziate inizialmente dunque di 400 mila Euro non sono state sufficienti per dare risposta a tutte le 719 domande che sono pervenute anche in questo caso l'amministrazione comunale ha deciso di individuare, di reperire ulteriori risorse per dare risposta a tutte le domande che sono pervenute quindi sono altri 280 mila Euro che l'amministrazione comunale stanzia a favore di situazioni appunto di difficoltà che sono pervenute con la pandemia E l'amministrazione comunale ha previsto per il mese di marzo agevolazioni economiche anche per il pagamento delle rette dei nidi e delle scuole di infanzia chiusi insieme alle altre istituzioni scolastiche a causa delle restrizioni previste in zona rossa Dopo l'azzeramento delle rette avvenuto da marzo a giugno del 2020 l'amministrazione comunale ha annunciato anche per il mese di marzo 2021 una forma di sostegno per i genitori pesaresi di bambini da 0 a 6 anni che con il passaggio prima della provincia e poi della regione in zona rossa hanno visto chiusi insieme alle altre istituzioni scolastiche anche i nidi e le scuole di infanzia Nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale l'assessore con delega alla scuola Giuliana Ceccarelli ha annunciato che per il mese di marzo 2021 l'amministrazione attuerà il riproporzionamento delle rette per nidi e scuole di infanzia in base ai giorni di presenza dei bambini insieme all'azzeramento complessivo delle rette del trasporto scolastico Ci siamo attivati per la riduzione delle tariffe dei nidi delle scuole dell'infanzia comunale della mensa scolastica, dei trasporti quindi dell'infanzia statale e primaria da marzo a giugno del 2020 quindi abbiamo azzerato tutte le rette scolastiche e in questo ultimo mese di marzo quest'anno nel 2021 abbiamo proceduto subito abbiamo pensato ad una riduzione voi sapete che le rette vengono pagate ad esempio da marzo si pagano a maggio per cui avevamo tutto il tempo di fare un po' i nostri calcoli anche per vedere quanto era per quantificare insomma quello che il comune avrebbe dovuto mettere a livello di finanziamento quindi abbiamo subito pensato che non avremmo fatto pagare le rette per il periodo di chiusura della scuola naturalmente proporzionalmente a questi giorni di chiusura quindi dal 10 marzo in poi in questo mese di marzo il problema di riduzione si pone solo per le quote del nido e le quote fisse della scuola dell'infanzia e la quota trasporto ovviamente perché nella primaria si pagano solo i pasti consumati poiché la chiusura quindi ha comportato di minori servizi erogati il saldo fra minori entrate e minori spese vede una somma di circa 64.000 euro da coprire nel bilancio comunale grazie alle risorse del fondo anti-covid la necessità di andare nuovamente incontro alle famiglie pesaresi era stata sollevata anche dai consiglieri di centrodestra con una mozione poi bocciata con 19 voti contrari riguardante la sospensione a causa dell'emergenza covid delle rette per le scuole di infanzia e per i nidi comunali per l'anno corrente è un documento che di fatto è andato ad ascoltare le esigenze dei genitori che si sono trovati da un momento all'altro in zona rossa e quindi con i servizi educativi chiusi ritenuto che comunque un sostegno per quanto così minimo però alle famiglie lo si potesse dare abbiamo chiesto che l'amministrazione intervenga quanto prima per da una parte sospendere temporaneamente le rette qualora quando depositammo la mozione speravamo che nel giro di pochi giorni si sarebbe tornati in fascia arancione quindi anche le strutture educative avrebbero potuto riaprire e quindi da una parte la sospensione dall'altra qualora ci fosse stata una riapertura anche temporanea una riduzione delle rette o nel caso peggiore cioè la chiusura per tutto il mese di marzo di fatto ad una rinuncia completa da parte dell'amministrazione comunale di queste rette un intervento di questo tipo esattamente come è stato fatto lo scorso anno consentirebbe alle famiglie di evidentemente ottenere un minimo di ristoro e d'altro canto consentirebbe all'amministrazione di dare un segnale forte di presenza e di vicinanza apriamo ora la pagina delle segnalazioni di Rossini TV vi ricordiamo di inviarci foto, video, messaggi, testo al numero in sovrimpressione 370-366-7210 per segnalarci le problematiche che riscontrate in città le segnalazioni di oggi ci portano allo sgambatoio lungogenica che come testimoniano le foto che stiamo vedendo e che ci sono state inviate da un telespettatore risulta essere privo di recinzioni sul lato del fossato dove è presente l'acqua l'assenza di protezione permetterebbe ai cani di scendere nel fosso e quindi di uscire dalla zona scambatoio accedendo invece al parco pubblico adiacente un disagio sia per i padroni degli amici a quattro zampe che essendo sciolti potrebbero darsi alla fuga o trovare difficoltà nel risalire il fosso sia per i frequentatori del parco confinante problematiche che potrebbero essere quindi risolte con l'installazione di una recinzione nel tratto indicato e in cui attualmente risulta mancante Ancora notizie perché il gruppo Innova ha donato questa mattina un nuovo defibrillatore alla città di Pesaro il dispositivo che sarà posizionato a Fiorenzuola di Focara va ad arricchire la rete di apparecchi già dislocati sul territorio uno strumento essenziale in caso di necessità e di soccorso hanno commentato due rappresentanti della Croce Rossa pesarese presenti alla donazione insieme all'assessore con delega alla salute Mila della Dora e i due amministratori di Innova e il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro in questi giorni che precedono le festività di Pasqua ha realizzato un'iniziativa di solidarietà volta alla raccolta fondi destinata alle associazioni pesaresi di Ant e Iopra grazie all'acquisto di uova campane di cioccolato e di colombe pasquali le donne e gli uomini delle fiamme gialle hanno raccolto significative somme di denaro per sostenere le attività delle citate associazioni e nuovo simbolo di protesta questa mattina del comitato priorità alla scuola dopo la mobilitazione della scorsa settimana che ha visto la presenza di circa 200 persone al campus tra studenti genitori professori e personale scolastico questa mattina sono stati appesi cartelli e slogan all'ingresso di alcuni istituti regionali e anche della città a sostegno della scuola in presenza e per ribadire la necessità di interrompere quanto prima la didattica a distanza e ci avviciniamo quindi alle festività pasquali e anche quest'anno a causa della zona rossa e delle restrizioni tuttora vigenti i ristoratori dovranno tenere chiusi i propri ristoranti sono diversi e molti di più rispetto però all'anno passato quelli che per poter comunque lavorare hanno deciso di attivare il servizio di asporto e domicilio lo sentiamo nelle prossime interviste l'anno stimato a livello italiano è di 7 miliardi le chiusure pasquali dei ristoranti e ogni ristorante poi per ovviare questa cosa ha provato ad organizzarsi perché l'unica cosa che è consentito a fare era l'asporto e il delivery noi come Polo Pasquettizza abbiamo fatto e improntato come asporto e delivery sia la crescita di Pasqua che le colombe e anche un venuto a scuola perché è l'unica alternativa che avevamo per in qualche modo riuscire a incassare due lire giusto per qualche bolletto l'anno scorso chi poteva fare il servizio del genere erano in pochi e si erano organizzati in pochi quest'anno più o meno visto che siamo tutti lì la concorrenza quest'anno è veramente forte speriamo che diciamo quest'incubo che sta vivendo la ristorazione a livello europeo termini il primo possibile perché tutti i clienti tutti i nostri commensali hanno un grande voglio di tornare sulle tavole dei ristoranti per poter degustare i piatti del proprio ristorante preferito da noi al ristorante dello Scudiero abbiamo appunto per Pasqua preparato due menù cioè per fare l'asporto tutti i giorni e il delivery per il giorno di Pasqua abbiamo fatto i due menù specifici uno di carne uno di pesce in questo anno abbiamo fatto grossi miglioramenti su quello che è il discorso sport su quello che è il discorso dei liberi perché si era partiti come una cosa che doveva terminare molto velocemente invece ci siamo accorti che è una cosa che è duratura aspettando che tutto ciò finisca e lo speriamo in fretta nel mentre stiamo strutturando per arrivare vicino ai nostri clienti l'asporto diciamo è una cosa fatta per non reagire passivamente a tutto quello che ci succede però intanto anche se non ha dei risultati economici soddisfacenti diciamo cercando di mantenere la stessa qualità o di dotto il menù e gli altri che prestano che si prestano ecco ad essere trasportati abbiamo pensato il menù è simpatico vedo che c'è diciamo gradimento già delle buone pronostazioni un buon numero di pronostazioni però comunque si tratta di Pasqua ecco solo di un giorno perché altrimenti gli altri giorni della settimana ecco devo dire la verità è abbastanza lontana cosa e questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo la prima serata di questa sera su Rossini TV una nuova puntata della nutrizionista a chilometro zero appuntamento che potrete seguire quindi questa sera alle 21.15 su Rossini TV domani poi una nuova puntata del programma dedicato alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro insieme a Canestro alla conduzione Marco Cadeddu e ospiti di domani sera saranno l'ex giocatore della VL Federico Pieri l'ape Andrea Rinaldi responsabile dell'intrattenimento e poi il confondatore dell'inferno bianco-rosso Roberto Tomassoli insieme a Canestro domani sera quindi su Rossini TV alle 21.15 proseguono su Rossini TV anche le celebrazioni pasquali in diretta domani giovedì primo aprile alle ore 18 la celebrazione in cena a Domini e poi ancora venerdì 2 aprile sempre alle ore 18 la dorazione della croce la veglia pasquale la potrete seguire invece in diretta sabato 3 aprile alle ore 19 e infine la messa del giorno di Pasqua domenica 4 aprile su Rossini TV alle 11.30 e poi l'appuntamento con l'informazione torna a puntuare domani mattina in diretta su Rossini TV alle 7.20 con una nuova edizione della nostra rassegna stampa grazie per averci seguito anche questa sera con il nostro telegiornale vi auguriamo un buon proseguimento di serata